La seconda serata di corse all'Ippodromo del Savio di Cesena è stata caratterizzata da un buon afflusso di pubblico, del resto finalmente la bella giornata e soprattutto anche la temperatura è gradevole, ha fatto sì che fossero in tanti ad assistere a questa importante serata. Importante perché? Perché il premio ed il più porte e finestre presentava per la prima volta i puledri in pista. La data del primo di luglio è infatti la data fatidica nella quale le varie generazioni cominciano a assaggiare la pista dopo aver compiuto i due anni. Questa sera è stata la volta dei puledri con la lettera Z. Erano in tanti attesi ma ha avuto la meglio Zoles con Alessio Mannucci. Il puledro figlio di Ganymede e di Gondolo AAS che aveva ottenuto la qualifica a Montecatini in 1.21.3 ha praticamente sbaragliato gli avversari, ha inflitto diverse lunghesse di svantaggio a Zorban Grad con Roberto Gradi che si è calificato al secondo posto e a Zach Wild con Battista Congiu che ha conquistato il terzo gradino del podio. E adesso le luci di Ripotono si spengono per riaccendersi martedì sera con la prima semifinale del Super Furstino Sisal Makepoint 2017.